Ciao a tutti, io sono Eleonora e sono di rientro in Italia dopo i miei tre mesi qua a Shanghai. Ho fatto l'Intership Master Program, il che mi ha portato a imparare un po' di cinese, ripeto un po' perché come sapete è una lingua piuttosto complessa, ma devo dire che lavorando anche in un'agenzia di comunicazione dove oltre al mio capo alcuni colleghi internazionali c'erano ovviamente anche colleghi cinesi, l'orecchio è stato abituato. Quindi anche questo ha aiutato a familiarizzarsi per il più corretivo. Dal punto di vista lavorativo, Shanghai come si sa è molto molto competitiva, quindi nei miei tre mesi ho avuto sia momenti abbastanza tranquilli, ma anche veramente impegnativi, che mi hanno però stimolata e anche fatta apprezzare il suo posto di lavoro. Ovviamente lavorare con i miei colleghi occidentali è stato abbastanza semplice, per una persona di mentalità è comune, ma con gli altri cinesi c'è stato bisogno di, diciamo, venirsi un po' incontro. La mentalità dei cinesi è molto diversa perché qua sembra un po' che la nostra logica è la nostra modalità è il metodo Manchi e diciamo che bisogna un po', come vi ho detto, venersi un incontro. È stata sicuramente un'esperienza splendida e positiva. Devo ritornare in Italia perché mi aspetta l'ultimo anno di specialistica, ma so cosa lascio qua e chissà che non torni a riprenderlo tra un po' di tempo. Vi saluto e grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.